Salve a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video Prima di cominciare come al solito vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto Anche perchè soltanto il 77,6% di quelli che guardano i miei video sono iscritti Quindi mi raccomando è una cosa super facile, super importante per me Ed è veramente velocissimo e soprattutto è gratis Detto ciò ragazzi siamo tornati sulla serie principale di Minecraft Non la portavo da un paio di giorni in effetti E l'ultima volta che ci siamo visti siamo andati a sconfiggere l'Ender Dragon Tra cui, di cui tra l'altro abbiamo preso l'uovo che è proprio là così Guardatelo che carino che è E qua è un patatino, è un uovo patatoso E in questo video mi sono chiesto Ok abbiamo sconfitto l'Ender Dragon Ma perchè non andiamo a questo punto anche, come si dice, a prendere l'Elytra? Anche perchè è una cosa super super importante Quindi perchè non andarla a prendere? Cioè dai, sarebbe veramente da stolti Quindi direi in realtà di non perdere troppo tempo E di dirigerci subitissimo al punto a punto Al punto a punto, scusatemi il gioco di parole Nel luogo dove sta l'Ender Portal Allora tra l'altro si sta facendo notte Quindi questo potrebbe essere un problemino Anche perchè non ho un letto Però là in teoria un letto c'è esattamente E ovviamente lo prendiamo Proprio te, si 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 Prenderò proprio te Devo anche valutare il fatto di andare a cercarmi un cavallo Anzi sapete cosa? In questo video andiamo anche a cercare un cavallo Ma perchè no, scusate Poi prima o poi dobbiamo anche battere il Wither Che abbiamo una Wither Skeleton School Ma ce ne vogliono tre Quindi ce ne vogliono direi ancora un paio Prima di poterlo sconfiggere Prendiamo ovviamente questa barchetta Super bella, super figa E in teoria dovrebbe essere Precisamente in quella direzione là Vediamo un po', proprio là Che non si vede Ma questi sono solo piccoli dettagli ragazzuoli Piccoli e inutili dettagli Guardate che bellina Che è la casa che abbiamo scostruito negli episodi precedenti È proprio bella È proprio bella bella Comunque concordate con me È vero che sarebbe più figo Se su Minecraft ci fossero modi più belli Per viaggiare nel mare Perché sì, ok, la barchetta Ma quanto sarebbe figo avere proprio una nave Cioè, sarebbe spaziale Allora, tra l'altro qua dobbiamo anche fermarci E ne approfitto anche per farmi una bella dormitina Anche perché là ci sono già anche degli scheletrozi E non è che mi piacciono troppo in realtà Oh no, dei phantom, ma sei serio? Quanti siete tra l'altro, scusatemi? Cioè, da quant'è che non dormivo, scusate? Non me lo ricordavo di non dormire da così tanto E tanto state crepando Se volete provare ad attaccarmi Almeno vi ammazzo io, mi prendo pure l'esperienza No, vedi di non morire No, siete morti tutti, ma siete degli animali Cioè, oddio, letteralmente Sì, tecnicamente sono degli animali Adesso mi prenderò una tartaruga No, sto scherzando Comunque sarebbe figo poi fare anche Tipo una specie di zoo Sì, zoo è un po' bruttino Però comunque è una specie di zoo Allora, tecnicamente E ribadisco tecnicamente Dovrebbe essere da qualche parte di qua Perché se laggiù abbiamo la casa In questa direzione qua Oltre passato il mare Dovrebbe esserci Dovrebbe esserci E basta Dovrebbe esserci il portale O perlomeno Dovrebbe esserci il villaggio Che porta al portale Vabbè, insomma, avete capito Allora, non lo so Forse è meglio se me ne torno indietro E passo bene dall'altra parte Ma no, ma perché poi in teoria dovrebbe essere qua Oh, esatto, vedete? Come immaginavo Laggiù c'è la cascatina Aia Laggiù c'è la cascatina di lava Mi posso lanciare qua Posso lanciarmi Dicevo c'è la cascatina E quindi esattamente Là In quella direzione Precisamente Là così C'è il villaggio Ragazzuoli Intravedo finalmente il villaggio In realtà non è neanche troppo distante Da Dalla nostra casa Come appunto vi dicevo Anche negli scorsi episodi Dovrebbe essere tipo A Esagero dai Cinque minuti L'ho allungato un goccio io Perché pensavo che passando di là Si arrivasse comunque Cioè si arriva Però allunghi Inevitabilmente Non mi veniva la parola Come al solito Questa bella scalettina in terra Ci fa molto comodo E direi che Non è giunta altro che l'ora Di buttarci nel magico tubo Che c'è qua sotto Tra l'altro Diamo un'occhiata qua Beh oddio Niente di troppo interessante Appunto come Come l'ho lasciato praticamente Tac Ci andiamo a tuffare qua Ancora giù E dovremmo essere praticamente arrivati Bam Adesso vediamo un attimo Se mi ricordo Ma in teoria bisogna scendere Scendere ulteriormente Passare di qua Salire E siamo arrivati giusto? Mamma mia Ma chi è che c'ha la memoria migliore della mia? Ma chi? Sono anche degli slime qua Siete seri? Beh tu intanto crepi Primissima cosa Sento degli slime Sono lì No Bellissimo Un diamante Ma pensate voi Che culo Non ho il piccone di confortuna Ma vabbè Non penso che un singolo diamante Potesse poi darmi alla fine Chissà che cose Zombie Per favore Uè credo Comunque questa spada Non è che sia proprio il top eh Diciamoci la verità Cioè tutti quegli stronzi Mi hanno dato una sola Cioè due sole slime ball No veramente Io non ho parole Sono scioccato E angosciato dalla cosa Signor zombie Mi dispiace Che la sua vita Dovrà essere Finita in questo modo Così avare È crudele Ma è così che funziona Detto ciò In teoria No ok Mi sono perso Ah no Che non mi sono perso Perfetto Vediamo questo qua Ah qua avevamo già anche un letto Vabbè buona se persi dai La lava potremmo anche togliere Anche perché dubito Che mai ci servirà Ma va bene Dai lasciamola comunque Nei prossimi episodi Sicuramente sarebbe il caso Andare a fare una bellissima farm Di enderman Che vi dirò Un pensierino Potrei davvero farcelo Nel farla Per i prossimi episodi Ecco Andiamo a fare una roba Abbastanza furba Cioè oddio no Così è troppo poco furba Un secondino Facco un paio di questi blocchettini In modo da riuscire a Piazzarmici Proprio sotto Bene sotto Sotto bene sotto Sì vabbè Comunque avete capito Ne attiriamo un paio Ecco dai Vinite qua Mi raccomando Fatevi vedere tutti Da bravi Sì Così sì Che mi piacete Dai Siete rimasti Gli ultimi tre Perfetto Vuoi crepare Madonna Santissima Che fatica Non è che a me ne avete date tante Di ender però alla fine Va bene così Questo è il duro prezzo da pagare Se si vuole avere ender per l'esperienza E tra l'altro Adesso che ci penso La farm di enderman È anche un'ottima Ma proprio ottima farm di esperienza Quindi in realtà Potremmo seriamente Valutare il fatto Di fare qualcosa Nei prossimi episodi Prendo giusto un po' di blocchi Perché serviranno sicuramente Anche perché dobbiamo andare proprio là sopra E adesso va bene tutto Ma sinceramente Di rischiare di cadere nel vuoto Proprio adesso Che non ho ancora Le lightra O le litre Insomma Chiamatela un po' come volete Non è che mi vada proprio tanta Genio la cosa Ancora un paio di blocchi E ci siamo Ok in teoria No Anche uno in meno Perfetto Andiamo a farci Una piccola base Un piccolo basamento Dove poter poi camminare In futuro Con calma Ecco dai Una roba di questo tipo Diciamo che potrebbe anche andare È fatto di merda Assolutamente Ma va benissimo Guardate qua Che carino Questo pasticino Mamma mia Allora Prendiamoci Ovviamente Le coordinate A schermo Perché se no Siamo poi un goccio fregati E dobbiamo andare a cercare Il magico Coso Il magico Non mi ricordo neanche In realtà come si chiama Comunque avete capito Dai Eh ce l'abbiamo già là Perfetto Però ce l'ha la barca Sì anche la barca Molto bene Non è troppo distante Da dove siamo spawnati Quindi direi Toppete Usiamo anche qualche Qualche ender Già che ce l'abbiamo Perché no Ecco allora Questo potrebbe farmi parecchio paura Quindi vi dirò Che mi farò il giro Tranquillamente Oddio mi sa che comunque È un bel ponticello Me lo devo fare lo stesso Sapete Ho paura di sì Quindi direi che iniziamo pure Tranquillamente a scavare Ci prendiamo un po' di Non mi ricordo mai Come si chiama Endstone Giusto Ragazzoli se siete arrivate Fino a questo punto del video Mi raccomando Iscrivetevi Se siete nuovi Super importante E se non siete nuovi E siete già iscritti Fate che condividere anche il video Scusatemi se ve lo ripeto Davvero all'infinito Ma siamo soltanto A 2100 E qualcosa Iscritti E io sinceramente Spero davvero un giorno Di poter arrivare A molti Ma tanti di più Quindi so che ce la possiamo fare Quindi mi raccomando Credo assolutamente tanto E dico veramente Tanto in voi Quindi so che questo sogno Lo possiamo realizzare Tutti insieme Come una grande community Allora tra l'altro Siamo quasi finalmente arrivati Quindi direi che a questo punto Possiamo anche Iniziare a salire In questo modo Tac Vi state chiedendo Perché io lo stia facendo doppio Beh molto semplicemente Perché non voglio Rischiare Casomai di cadere Insomma Non si sa mai Fidatevi di me Meglio sempre fare le cose Con tanta tanta cura Soprattutto quando di mezzo C'è il fatto di perdere tutto Perché vai a cadere nel vuoto C'è un conto Voglio dire Se morite Nell'overworld normale Dici Sì oddio sono morto Ma insomma Dici anche un po' Sti cazzi Il problema insorge Quando sotto di voi Non c'è più Assolutamente nulla Allora Qua andiamo a completare Perché se no Lo so già Come va a finire Perfetto Vi dirò eh Qua tiro anche Una bella barriera In questo modo E ci siamo Tra l'altro Sto di nuovo Finendo il piccone Cioè ma che palle Minecraft Non ti sembra di stare un po' esagerando Con Le durabilità Degli oggetti Non pensi Eh che ne dici Di alzarle un goccio Ok immagino Che siamo arrivati Andiamo un po' Ma in teoria dovremmo Sbucargli proprio Da fronte Di fronte sotto Insomma avete capito C'è uno shulker box Maledetto apriti No devi lasciarmi in pace Bastarda che non sia altro Maledetto Quanto dura ancora Quanto dura 3 secondi No Altri 7 secondi Sei serio 1 secondo e cadiamo Perfetto Andata Già che ci sono Mi prendo anche le endrode Che sono molto molto carine Tra l'altro E non mi hanno droppato niente Sti bastardi Cioè non solo mi fanno levitare Ma neanche mi droppano la roba No ma complimenti Davvero Continuate così che va bene Qua non c'è ancora nada Quindi utilizziamo queste stupende scale Stupende si fa per dire Cioè ma chi è che crafta Cioè che fa le scale in questo modo Scusate Euuu Cosa fai? Eh? Anche tu non mi droppi niente Perché tu sei un pezzettino di cacca No Madonna stavo Stavo cad... Euuu Ma basta Fatemi salire Ok La così c'è la barca E c'è anche uno shulker box Quindi direi che prima distruggiamo lo shulker box Ce ne sono due di shulker box Oh mi ha droppato la shulker box shell Che è quella che volevo io Ma anche lui me l'ha droppata molto bene In realtà non so bene come si craftino gli shulker box Sarò sincero Però so che si craftano con quelle In realtà non come Però so che si craftano con quelle Sento che c'è un altro shulker box Ma non capisco dove sia Vabbè in realtà non sono neanche così convinto di volerlo sapere Quindi direi che va più che bene così Oh si è teletrasportato Ho sentito Ah guardalo dov'è lo strunzette Muori No Più in alto Muori No Muori Ma che se me l'ha droppato mi incazzo No non me l'ha droppato Perfetto Facciamo un piccolo ponticello Oh no No penso di aver fatto incazzare un ender lamp è sbaglio Oh si è decisamente incazzato Spero vivamente che non gli venga l'idea di saltare qua sopra Ma in teoria non dovrebbe potere In teoria In teoria E spero anche in pratica Ho finito la roba quindi vado di ossidiana Tac No dai No ho finito i blocchi Vabbè Ancora un blocco di ossidiana E una scaletta Bellissimo Ci siamo E in teoria Cos'è sta robina qua Instant health Ma benissimo dammela pure Dov'è l'altra Eccolo qua E in teoria con la shulker shell Dovremmo poterci fare Lo shulker box Che vi giuro sarà utilissimo Soprattutto per costruire le farm Soprattutto per quello E qua non c'è niente Quindi ci tuffiamo a capofitto E dobbiamo scendere ancora E Ah cosa vuoi Lasciami stare Maledetto Lasciami in pace Droppami la tua roba Eccola qua ragazzi Abbiamo l'elitra E tra l'altro anche tanta roba interessante Porca miseria La mettiamo subito Guarda quanta roba Eeeh Mamma mia Oh Direi Niente male come bottino eh Niente niente male Ma in teoria non abbiamo nient'altro Quindi Toppe te Dobbiamo anche decisamente andarcene Proviamo un attimo l'elitra Oh si che funziona Si si funziona decisamente Guardate che bello Sto volando Uhuuu Che figata davvero Che figata Devo poi andare a craftarmi I cosi di I fire I rocket Comunque I razzi Perché se no Non si fa praticamente nulla Con l'elitra Senza razzi Non mi ricordo bene come si craftano Comunque serve Gunpowder Aspettate Fatemi pensare Serve gunpowder E Fogli di carta Mi pare anche E non lo so Comunque roba di questo tipo Ma se io facessi una roba di questo tipo No Ok Stavo scherzando Volevo provare a tipo a lanciarmi Chi è Su uno di quei cosi lì No Ho sbagliato Ahia Vabbè tanto comunque siamo praticamente arrivati Ne approfittiamo Sfruttiamo questa robina qua Per fare un attimino di viaggi in volo E ci siamo Ragazzoli Ufficialmente ci siamo Vediamo un po' se riesco a spararla precisa No quasi Adesso come ci salgo Vabbè In teoria così Che spavento Vi giuro ho pensato di essere morto Bene in ogni caso ci siamo Ce ne possiamo anche tornare a casino Tanto basta alla fine ritornare nel portale Et voilà Ho sempre la solita storia Che palle che mi fa finire Qua all'inizio del mondo Dio che rottura di coglioni Ragazzoli siamo ritornati a casa Ho fatto anche un saltino qua Sopra al magico castello Perché appunto volevo provare a fare un bel saltino Dalla sopra E fiondarci direttamente in casa Tac Che figata davvero Che figata Posso già anche farmi uno shulker box No vabbè Bellissimo Figo figo mi piace Lo potremmo utilizzare Direi decisamente Andiamo a metterlo in un posto un pelo più sicuro Va Ecco direi tipo qua così Qua ci mettiamo anche le android Purple Com'è? Purple pillar Diamoci anche un bel item frame E ci mettiamo Questi qua Non lo so perché Sono carini Sono con Fire protection 4 E course of Binding Binding Com'è che è? Course of binding Non so sinceramente che cosa voglia dire Perché? Non me li fa togliere No non ditemi che course of binding Lì è quel Quelcoso lì che non te li fa più togliere Mi sa che è lui Mi sa che è proprio lui sapete Porca miseria che sfiga Vabbè dai Non importa Diamo anche una riparata un secondo al piccone Che non posso Cioè non mi conviene più che altro È troppo costoso Vabbè allora niente Posiamo un po' di roba che È abbastanza inutile Come per esempio questi diamanti Smeraldi ferro Eccetera Li andiamo a posare chiaramente Nella cassa qua sotto Tra l'altro meno male Perché di oro Non ne avevo praticamente più Usiamo anche le slime ball E insomma tutte ste cagatine Che ci sono qua in giro Insomma Già che ci siamo Ci facciamo anche i firework Che in teoria Si dovrebbero craftare Con la carta Che ce l'abbiamo qua E esattamente Con la gunpowder Quindi 19 Ci facciamo 17 firework Direi che potrebbero bastare No in teoria E tecnicamente Noi facendo così Magico Magico davvero Guardate qua Ma che robina Che figata Davvero Figata 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 Allora Ho detto che volevo andare a cercare Un nuovo amico Ed è esattamente Quello che farò Perché teoricamente Qua dietro ci dovrebbero essere I cavalli Se non vado errato Oddio potrebbe anche essere Che vado errato Alla fine Ma in teoria Ci dovrebbero essere Quindi Andiamo un attimo Oh ma là c'è un villaggio Tra l'altro Cos'è un villaggio disabitato Tipo C'ha le ragnatele ovunque Sapete che mi sa che è veramente Un villaggio disabitato Là c'è un altro Tra l'altro Ma pensate Subito vogliamo Guarda che bellino questo A parte che mi sembra di averlo Già visitato Non lo so Magari è solo una mia impressione Oh ci sono delle lead Così a muzzo Completamente a caso Va benissimo Grazie Oddio No 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 Vabbè che tanto Comunque fire protection Però Ma scusate Ma il villager Che abita in sta casa Immagino che sia crepato Giusto E rompo questo Cade tutto Oh se Decisamente Cade tutto tutto Che bello Sfruttare l'elitra Per uscire da posti ambigui Comunque qua abbiamo Dei cavallini Quindi Gli diamo un secondino Un'occhiata Quanta vita hanno Questa ne ha un bel po' Questo ne ha un bel po' Questo pure Questo qua quanto ne ha? No questo qua meno C'è un enderman Che scappa con un blocco Ehi No non volevo Scusami Puoi lasciare questo blocco in pace Per favore Guarda che non è tuo Non si può fare Non ho parole Non mi ha dato neanche una ender pearl Mi ha soltanto lasciato Sto blocco schifoso Davvero Ma che Che sfida Vabbè in ogni caso Guardiamo anche un attimo Il cavallino Che c'era qua Perché ho visto Che c'era un cavallino Non mi ricordo dove Ma c'era Qua sono zombie villager No Poverini Ah è là davanti Vabbè andiamo a dormire Vediamo un po' Lui quanta ne ha Ah lui no Ne ha soltanto uno No niente Come non detto Torniamo Torniamo dagli amichetti là E io ho ancora difficoltà Ad usare l'elitra Comunque Mi dirò La sincera verità E in realtà Non so bene Come si faccia ad utilizzare Se devo essere proprio sincero Cioè so che puoi volare Figata Ma non so bene Effettivamente come Vedete Devo per forza avere Una specie di Piano di appoggio Chiamiamolo così Mi sono dimenticato assolutamente Dove erano gli altri cavalli La risposta è Sì No Perché là c'è l'altro villaggio Perfetto Quindi loro dovrebbero essere qua Ah Eccoli qua Perfetto Zoom Allora tu sei uno di quelli potenti Sì Tu hai le macchie E l'altro L'altro mi sa di no Cosa prendiamo Quello maculato Quello non tanto maculato Ma no Prendiamo quello maculato Cioè dai guardate che carino Che è Diciamogli una bella Ah no non possiamo Giusto Prima dobbiamo addomesticarlo No tu diventerai mio E soprattutto Non farai storie Hai capito Smettila Devi smetterla Dai tanto lo so Che vuoi diventare mio amico No Ho detto smettila Diventa mio amico E non rompe i coglioni Dai Bravissimo Vedi Era tanto difficile No Ci ho voluto un attimo Mamma mia sei lento però Ma non dovrebbe correre Più in fretta Scusate In teoria i cavalli Dovrebbero essere tipo Super fast Vabbè Magari ho beccato io Il cavallo stronzo Cosa vi devo dire Salta almeno in alto No Neanche in alto salta Vabbè Troverò Troverò un cavallo Più bellino Nel mentre Teoricamente Casa nostra Se là c'è il villaggio Abbandonato Dovrebbe essere In questa direzione qua Quindi io perché sto andando Nella direzione opposta Non lo so neanche io Cioè il mio cavallo Neanche abbiamo iniziato La nostra avventura Che già ha pochi cuori Io non ho parole Non so se sono io il problema O che cosa Vabbè Dai Prendiamo un po' di sugar Glielo diamo Lui è contento E noi lo ricavalchiamo E via Ma siamo ritornati Al punto di partenza Ma davvero Ah io non ho parole Comunque visto che I villageri di questo villaggio Sono tutti morti Non gli dispiacerà Vero Se gli rubo Queste bellissime Valle di pieno Sì ok Potrei tranquillamente Farmela a casa E questo è assolutamente vero Ma diciamoci un attimo La verità Quanto cavolo è più comodo Oddio cos'è Mamma mia Ma esistono ancora Sti così qua Scusate Lasciami stare Esistono ancora posti Con le ceste belle Nei villaggi Scusate Oh ma ciao Mi dispiace soltanto Che tu adesso debba morire Un'altra casa bella No Però c'è questa roba qua Non so cosa sia Ma la prenderò No mi sono spezzato le gambe Mannaggia a me Che coglione Comunque niente ragazzi Direzione casa E niente Ci vediamo quando sono poi lì Ok ammetto che in realtà Arrivare a casa La pensavo una cosa un po' più difficile Del previsto Ma come potete vedere Siamo già praticamente arrivati Non pensavo in realtà Fosse così vicino a casa Quel posto Eh sì ok Sapevo fosse vicino Ma non così tanto Mi ho messo letteralmente Un minuto e due Forse esagerando Oh no ragazzi C'è una croce C'è una croce E adesso Tutti i boomer di minecraft Mi diranno C'è aero brain nel mondo Aero brain nel mondo Sì Va bene L'importante è crederci Eh ricordatevelo ragazzi Con la convinzione Si ottiene tutto nella vita In ogni caso Detto ciò siamo arrivati Facciamo un saltino Da questa parte Che passiamo da qua E fammi passare Maledizione Ah che passo Passo dove voglio Io passo con sto cavallo Lo adagiamo un secondo qua Adagiamo sì Vabbè lo lasciamo un attimo qua E ci prendiamo un fence gate Dov'è che ce li ho Ce li ho qua No non ho più Ho finito i fence gate Vabbè Ne facciamo altri Non è un problema Lo facciamo in birch Perché birch è più bello No non è vero Sto scherzando Però comunque va bene dai No perché ho detto gate Volevo dire fence Vabbè avete capito Avete capito In ogni caso Lo mettiamo proprio qua Tanto abbiamo le lid di prima Vieni qua Vieni qua Yeah Staccati qua E non rompere i coglioni Niente ragazzi Abbiamo anche le litra Eh Direi che a sto punto Facciamo che metterla magari qua Anche perché Detto sinceramente In realtà Si è consumata già E non ho fatto praticamente nulla Cioè letteralmente Non ho fatto nulla Quindi forse È meglio se la teniamo da parte Per un po' Ecco Qua ci andiamo a mettere anche I boots Questa empty map Un giorno La dovremo riempire Quando avrò voglia Perché in realtà Ste robe qua Insomma Quelle che sono del mondo Le vado poi a riempire Quando voglia E non è che c'ho sempre voglia Di star lì a girare Come un pirla Soltanto per riempire Delle mappe Questa mi sembra figa La andiamo a mettere qua Non so in realtà Che cosa serva E in realtà Non so neanche Se effettivamente Ha un'utilità Adesso provo a spararci Con l'arco E non lo so Si dice Ma anzi Non è quella roba lì Che si fa con Tipo i pistoni Dov'è che c'ho i pistoni Qua no c'ho i pistoni Dov'è Dov'è no Eccoli qua Proviamo un attimo Sticky piston Io sparo Non era quella Scusate Vabbè Non lo so In ogni caso Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se sapete A che cosa serve Ve ne sarei Umilmente grato Ragazzuoli Questo video con la notte Quindi andiamo a dormire Finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Se è stato così Vi ricordo di iscrivervi assolutamente E di lasciare un bel mi piace Mi raccomando Commentate anche Se avete qualcosa da commentare Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi